Entriamo nel mondo del matrimonio, la scelta dei fornitori giusti per comporre quello che sarà il nostro evento da favola. Cominciamo con la location. La location forse è la scelta più difficile che gli sposi vanno a intraprendere. Sono disposti a percorrere chilometri e chilometri per trovare quella giusta. Chi vuole fronte mare, chi vuole la montagna, chi vuole la piscina, chi vuole la sala tutta bianca, chi vuole la sala barocca, chi vuole la sala minimal. Pertanto, scelta la location, direi che gli sposi sono già a buon punto nella fase dell'organizzazione del matrimonio e noi per voi abbiamo scelto questa location. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.